Graffi in garage Graffi in garage Risparmierai molti soldi Farà svanire l'abrasione dal cofono Le detestabili strisciate dalle porte Gli urti e i graffi dai paraurti Gli odiosi segni e graffi dai retrovisori Con Paint Regen potrai riparare l'auto tu stesso Ma soprattutto funziona su qualsiasi colore Ed è efficace persino sulle vernici metallizzate La testina di sfugna di Paint Regen si adatta perfettamente a qualsiasi superficie Per riparare ogni tipo di graffi È il sistema più efficace e semplice da utilizzare Ed è così versatile che funziona alla perfezione anche con moto Roulotte e persino imbarcazione Se in garage abbiamo fatto una strisciata su una fiancata Nessun problema Basta applicare Paint Regen e il graffio scomparirà Facile e pratico Con la chiave abbiamo rigato la porta dell'auto Nessun problema Paint Regen lo risolverà e la tua auto splenderà come prima Non spendere migliaia di euro dal carrozziere per un semplice graffio Hai strisciato con una colonnina? Nessun problema Riparalo tu stesso con Paint Regen L'auto tornerà perfetta Avrai di nuovo un'auto impeccabile Un graffio sulla moto? Applica Paint Regen e la tua moto tornerà ad essere impeccabile La sua confezione è così pratica ed ergonomica Che lo potrai conservare nel cuscotto Portalo sempre con te Se vuoi avere sempre un'auto impeccabile Ciò che ti serve è Paint Regen Acquistalo subito